L'inaugurazione alla presenza delle istituzioni, gli incontri letterari con i più grandi autori, locali e non, e anche presentazioni di volumi da essa stessa editi. E' affidato alle foto il racconto di 30 anni della libreria Raffaello, ma l'album dei ricordi non è ancora completato. Ci sono nuove pagine da scrivere, con nuove forze e nuovi stimoli. Da venerdì scorso, lo scrigno della cultura locale, sito in via Pasculli, è infatti un mondadori point. La storica libreria bitontina ha abbracciato il colosso dell'editoria e ha accettato la sfida di adeguarsi ai tempi, pur mantenendo l'anima di sempre. Quell'adeguarsi ai tempi che però non deve essere improvvisato, ma deve essere dopo un aspetto di preparazione, dopo un aspetto di approccio molto professionale con il pubblico. Alla base di tutto però ci deve essere sempre la serietà e la professionalità che l'ha contraddistinta in questi ultimi 30 anni. Questo è il volere di Antonio Saracino, che ha consegnato il testimone a sua figlia. Il futuro della libreria Raffaello avrà il volto di Simona, che dopo anni di gavetta ha già le idee chiare. Far diventare questa libreria un punto non soltanto di cultura, ma anche un punto di condivisione, di condivisione di idee, di emozioni e di sogni. La Raffaello infatti non abbandonerà la sua vocazione scolastica, ma cercherà al contempo di abbracciare una nuova fetta di lettori, grandi e piccoli, di cui la città è ricca. Secondo i proprietari, Bitonto è ormai culturalmente forte e merita di avere a disposizione un contenitore ricco di oltre 12.000 volumi. Entusiasta si è detto anche il sindaco Michele Abaticchio, intervenuto durante l'inaugurazione. Avere la Mondadori Store qui a Bitonto è sicuramente un segno di crescita per tutto il territorio. Qui la Mondadori peraltro abbraccia una forte tradizione, la nostra stessa memoria, che è la libreria Raffaello, che io sono cresciuto con questa libreria, che è stata, devo dire, secondo me premiata da questo riconoscimento. La scelta della nostra città e della libreria Raffaello, come è stato confermato da Marco Leggero, capo aria Mondadori Retail, è il frutto di anni di lavoro e di valutazioni. Perché Bitonto? Perché riteniamo che sia un paese, una città, che merita una libreria, un presidio culturale importante. Il partner giusto nel caso specifico è una libraia formata. Il sogno di Simona Saracino è ora realtà. Toccherà a lei, con la sua professionalità, scrivere questo nuovo capitolo della storia della libreria Raffaello, che continuerà ad essere un punto di riferimento per la nostra città per tanti anni ancora. Fra 30 anni ci adegueremo, perché il lettore ci sarà. Noi adesso vendiamo libri, fra 30 anni venderemo i cobi, fra 30 anni venderemo l'ebook, però comunque la lettura esisterà. Quindi noi ci adegueremo. Grazie. 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 Grazie.